Musica Sputi, insulti e lancio di un panino contro una vittima indifesa che non poteva reagire a compiere il gesto inqualificabile nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre un gruppo di minorenni di Busta Rossizio in provincia di Varese. Secondo quanto riportato i 7 tutti d'età compresa tra i 13 e i 15 anni sarebbero arrivati nelle vie principali di Busto e notando l'anziano diversamente abili hanno iniziato a schernirlo. Dalle provocazioni verbali sono poi passate agli insulti e agli sputi fino a quando uno dei ragazzini ha deciso di lanciargli addosso un panino. L'atto di bullismo è stato fermato solamente grazie all'intervento di una volante della polizia che passava di lì. Gli agenti hanno stilato un verbale ricostruendo quanto successo destinandolo alla magistratura minorile. La vittima è stata soccorsa sul posto e tranquillizzata dopo aver vissuto attimi di puro terrore. Musica Musica Musica